pronto? buongiorno pronto? sì, buongiorno a lei no buongiorno mi dica sentite, ma gli hai capito a quello che hai fatto? pronto? buongiorno buongiorno ah che è un regalo? lei è responsabile di questa azienda che chiamo? senti, guarda, Casemara è veramente una cosa di soldi è meglio perché a me servono dei soldi tu vuoi prendere una cosa mia che io sto vendendo? io pure sono vendendo io non sono responsabile di niente, io sono una persona irresponsabile qua siamo tutti irresponsabili se tu tieni qualcosa che volessi comprare a me, ben venga, così mi accatturi a telecom che è legata in lei che vogliamo fare? vogliamo contrattare? pronto? buongiorno buongiorno eh non ci interessa non ci interessa ah no? no vabbè, arrivederci arrivederci oh domenica la domenica la domenica quella c'è sempre perché noi non ci siamo, capite? eh eh ero il titolare mmm ma chi è a quest'ora che chiama sempre? pronto? salve buongiorno mi dica che volete? e lei che si occupa dell'utente del telefono sentite stiamo lavorando, non rompete le scatole salve buongiorno mi piacere, mi chiamo Lorenzo salve buongiorno 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 ma questa è una casa o un'azienda? no? scusate se non sapete manco voi e se sta scritto anche al schermo vostro, no? se non è una casa o un'azienda e grazie a voi caspita che è un'azienda secondo voi che potesse? una caverna o una catapecchia questo? scusate eh scusate voi deve sapere queste cose ah ma poi volete sapere? ma sono fatti dai vostri quelle che siamo noi scusate vedete quelle che era fatica faticate io l'ho fatica va va salve buongiorno buongiorno la telecom beast pass ma questa è un'azienda o un'abitazione? è un'abitazione ah è un'abitazione si no vabbè arrivederci allora no 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 ma come? volevo pagare di meno pronto? mi dica si 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 buongiorno buongiorno si si è lei che si occupa dell'utenza telefonica? ma io advenna che l'ho mai sentita si 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 mi dica è lei che si occupa dell'utenza telefonica? scusate stiamo lavorando salve buongiorno mi piacere mi chiamo Lorenzo salve 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 Grazie a tutti.